La sigla. Buongiorno a Edoardo Tincani, direttore della Libertà. Buongiorno Susanna. Oggi parliamo di una santa molto conosciuta, Maria Goretti. Santa Maria Goretti, una santa bambina che ha fatto sicuramente notizia e scalpore per tanta parte del secolo scorso, oggi forse un pochino meno conosciuta dalle nuove generazioni, intendo, però certamente vergine e martire, una figura che merita di essere rilanciata, diciamo così. Quando vive? Come si svolge la sua vicenda? Maria Goretti, Maria Teresa, poi verrà battezzata, nasce a Corinaldo, in provincia di Ancona, il 16 ottobre 1890, in una famiglia povera, numerosa, di braccianti agricoli, da Luigi, papà e Assunta Carlini, la mamma. Una famiglia che appunto è religiosa, nel senso che lei comunque viene battezzata e cresimata subito, perché allora usava così, farà poi la prima comunione già... Cioè si faceva battesimo e... La cresima era ravvicinata, era a sei anni la ricevuta, insomma, però precedeva la santa comunione, la prima eucarestia. Una bambina che dà una mano in casa, non appena cresce, e che vive il primo, diciamo, trasloco della sua vita, quando dalle marche, appunto da Corinaldo, la famiglia deve cercare lavoro, sono dei braccianti agricoli, l'abbiamo detto, e anziché emigrare in America, come molti facevano allora, vanno a fare una scelta abbastanza coraggiosa, perché vanno a coltivare i terreni nell'agropontino, quindi in provincia di Latina, che allora però era una zona molto insalubre. Infatti il papà Luigi di Maria, che veniva chiamata Marietta, Marietta appunto Goretti, morirà di malaria alcuni anni dopo, proprio stroncato anche per le fatiche del lavoro nei campi. Quindi si trasferiscono in un territorio, in una, diciamo, tenuta agricola di un senatore, Apoliano, senatore Scelsi, dopo alcuni anni vanno in un altro luogo, a Ferriere di Conca, oggi Borgo Montello, e in tutte e due queste, diciamo, ubicazioni lavorative, convivono con un'altra famiglia, la famiglia di Giovanni e Alessandro Serenelli, la mamma era morta da tempo, che anche essi sono mezzadri, e si condividono, diciamo, il lavoro, nel caso di Ferriere di Conca, abitando nella stessa cascina. Quindi c'è mamma Assunta, che è rimasta vedova di Luigi, Maria, che si occupa dei fratelli, e questa bambina ha anche un grosso carico di lavoro, perché oltre ad occuparsi dei fratelli più piccoli, ne ha quattro sotto di lei, deve anche trasportare l'acqua, perché allora nelle case non c'era, deve andare a Nettuno, che era non certamente vicino, a piedi a vendere i colombi e le uova, deve occuparsi del rammendo e delle prime colazioni, del rammendo degli abiti, e delle prime colazioni dei lavoratori, che poi andavano nei campi, tra cui, appunto, anche Giovanni, il papà, e Alessandro Serenelli, che poi sarà il suo, diciamo, uccisore. Ecco, quindi, come si sviluppa la vicenda, il suo uccisore chi è? Sì, allora, arriviamo a questa storia, che appunto è quella che ha reso così famosa, diciamo così, di Marietta, Maria Goretti, diciamo che, abbiamo detto, queste due famiglie, Goretti e Serenelli, lavoravano sostanzialmente nello stesso terreno, del conte Mazzoleni, a ferire di Conca, e si suddividevano i compiti. Però ci sono degli screzi tra Giovanni, il papà Serenelli, e mamma Assunta, perché comunque lui vuole, in qualche modo, controllare anche i conti e la vita in modo abbastanza pressante della famiglia Goretti. E soprattutto Alessandro, che aveva già 18 anni, ma era ancora minorenne allora, perché la maturità, diciamo, guadagnava 21 anni, e questo coinciderà sul suo percorso carcerario. Comunque, Alessandro, che ha già 18 anni, a differenza di Maria, che è illetterata, sa leggere e scrivere, va spesso a Nettuno, torna spesso con delle riviste di attrici, insomma, erano le prime illustrazioni, un po' audaci per quei tempi, e nel suo immaginario attirano, o comunque alimentano, un interesse morboso per la piccola Maria, che nel frattempo aveva già 11 anni, cominciava l'età del sviluppo, e iniziava a molestarla. Maria respinge sempre i suoi interessamenti, anche perché lei considerava Alessandro come un fratello, visto che la casa era un po' una famiglia allargata. Però poi, il 5 luglio 1902, arriviamo al fatto di sangue, Alessandro ha premeditato, insomma, di aggredire Maria, avviene, lui torna dai campi con un pretesto, trova Maria che sta ramendando una sua camicia, tra l'altro, sul limitare dell'aia, la trascina all'interno, in cucina, e cerca di violentarla. Quindi è un tentato stupro. Oggi parleremmo di femminicidio per questa vicenda. Maria resiste ancora una volta, dicendogli, no, se fai così vai all'inferno. Bisogna dire che Maria aveva proprio questa concezione molto eroica, che in patti poi la porterà a essere beatificata e successivamente canonizzata da Papa Pio XII, per cui avrebbe preferito la morte piuttosto che macchiarsi di un peccato mortale, anche se in questo caso era vittima di una violenza. Comunque non cede ad Alessandro, Alessandro aveva portato con sé un punteruolo, proprio perché aveva premeditato anche questa azione, nel caso Marietta si fosse opposta, la colpisce a 14 volte, poi questo numero ritornerà, vedremo come, al ventre soprattutto, e lei quasi muore dissanguata. Poi lui scappa, la madre ritrova la figlia in una pozza di sangue, la portano all'ospedale di Nettuno, dove il giorno dopo, quindi il 6 luglio, che è anche la sua memoria liturgica, a 1902, Marietta morirà non prima di avere ricevuto i sacramenti cristiani, l'unzione degli infermi dal parroco Don Signori, e avere sussurrato alla mamma assunta che perdonava Alessandro, e addirittura dice lo vorrei vicino a me in paradiso. Questa è una specie di profezia che poi, in qualche modo, naturalmente, non possiamo saperlo con certezza, perché non abbiamo fonti del paradiso, ma si verificherà. E adesso magari... Eh, quindi infatti, quindi cosa succede? Allora, spostiamo l'attenzione, esatto, possiamo spostare l'attenzione un attimo da Marietta, che comunque abbiamo detto verrà beatificata, la sua fama di santità si diffonde, e il Papa riconoscerà il suo martirio, che la porterà alla beatificazione, perché appunto lei ha mantenuto non solo la castità, la verginità, ma ha voluto dimostrare la sua fedeltà prima di tutto a Dio, cioè non ha voluto condividere nessun peccato con il suo assalitore, e poi ha perdonato un punto di morte. Ci spostiamo su Alessandro, viene arrestato, fa tre anni di isolamento, viene condannato a 30 anni di carcere e non all'ergastolo, perché abbiamo detto a 18 anni si era ancora minorenni, altrimenti avrebbe avuto l'ergastolo, poi in realtà ne farà 27 di anni di carcere, durante l'isolamento, verso la fine dell'isolamento, quindi il terzo anno di prigionia dura, fa un sogno, e in questo sogno vede Marietta tutta sorridente che gli va incontro, gli offre dei gigli, 14 gigli, quindi 14 erano state le coltellate, 14 gigli, e lui li raccoglie da questa giovane e man mano però che li raccoglie si trasformano in fuoco. Questo per lui è un segno insomma che Marietta cerca veramente di portarlo al paradiso, come le aveva predetto in punto di morte, e inizia la conversione, naturalmente non è una cosa così automatica, lui inizierà a parlare col cappellano del carcere, e poi quando uscirà dal carcere nel 1929, di lì a poco andrà a chiedere perdono ad Assunta, anche la madre di Marietta che glielo concederà, e poi gli ultimi anni della sua vita, lui è morto nel 1970, a quasi 90 anni, li trascorrerà in un convento di Cappuccini, in modo molto ritirato, quindi veramente si può dire che Maria Goretti abbia ottenuto la piena conversione e vicinanza all'italia di Santità. Questa è l'immagine? Esatto, questo è lui, è Alessandro Serenelli, ovviamente in tardità, che ha sempre mantenuto anche una devozione, naturalmente, ha fatto in tempo a vedere la canonizzazione, perché la canonizzazione è avvenuta nel 1950, ed è stata la prima, altro record storico, fatta in Piazza San Pietro, perché appunto la folla che si voleva prenotare era talmente tanta che non si poteva fare a Nettuno o a Corinaldo. E Alessandro, quindi oltretutto nel suo testamento spirituale, chiamerà assunta la mamma di Maria la mia mamma. Cioè lui si è sentito veramente trasformato. E qui sono insieme. Esatto, sono i genitori. È diventato proprio un modello Santa Maria Goretti. Quali poi parole ha pronunciato il pontefice? Sì, esatto, il Papa Pio XII ha proposto, fin dalla beatificazione che è avvenuta nel 1947, sempre a Roma, ha proposto Maria Goretti come esempio di fortezza. Ha fatto un lunghissimo discorso che si può ancora reperire su internet per chi è interessato ad approfondire e la paragonata Sant'Agnese ad altri forti del Vangelo. Quindi dice non è stata la sua una remissività, una debolezza anche se bambina aveva, perché si era già accostata la prima comunione che allora poi non si faceva così spesso mentre oggi è settimanale insomma per i fedeli e poi oltretutto andare a prendere la comunione allora a quei tempi in un territorio disagiato voleva dire camminare a lungo quindi ha avuto una vita cristiana e ha amato la famiglia cristiana perché non dimentichiamo che ha fatto una vita di sacrificio questa bambina cioè per i fratelli, per la mamma, per il lavoro nei campi e poi ha testimoniato appunto la carità e il martirio insomma subito per amore di Dio prima di tutto ha messo Dio al primo posto della sua vita e ha perdonato appunto e abbiamo visto anche come il perdono sia efficace naturalmente per chi crede perché attraverso queste parole e il sogno di Alessandro si è messa in moto una trasformazione nella vita di questa persona questo se posso dire un gancio con la tua vita è vero che molti termini la purezza la castità ci riportano un immaginario forse appunto da secolo scorso da primi del secolo scorso però anche oggi che si parla tanto di femminicidio stalking molesti e sessuali ed è purtroppo una realtà amara ci aiuta questa vicenda secondo me a non dimenticare anche che anche l'assalitore l'aguzzino il violentatore può essere recuperato quindi spesso c'è invece sappiamo mediaticamente un'agonia comprensibile dal punto di vista dell'emozione è orribile che questi fatti che purtroppo sono frequenti provocano però ecco Maria Goretti ci insegna anche a non perdere di vista il bene la salvezza diciamo in senso cristiano di chi commette il reato e il peccato diciamo appunto quello dovrebbe essere l'obiettivo del nostro sistema carcerario purtroppo nel caso di Alessandro Sarelli è avvenuto perché comunque il cappellano del carcere lo ha veramente aiutato a tirare fuori il suo disagio a confessare questo percorso di pentimento vero esatto quindi una storia anche edificante da questo punto di vista grazie ad Edoardo Tincani direttore della Libertà presto alla prossima puntata grazie a tutti